pronto smile salve sono sempre io da fraschiati l'assessore ai piccoli problemi e qui c'è un lampione che non funziona vedi lo vedi lo vedi non lo vedi lo vedi o non lo vedi e comunque c'è guarda vedi laggiù è acceso qui è acceso e lì su ce n'è uno con una luce sola mi raccomando intervenite presto che non vi pagano come non vi pagano e vabbè e per farvi pagare dovete andare a parlare col sindaco e guarda e questo è un comune virtuoso quindi non ti preoccupare prendi sta segnalazione e viene a ripararmi si si due lampioni guarda davanti a villa rosler france rosler france grazie